L'Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento lancia appelli ai donatori a causa dell'esiguità delle scorte negli ospedali e sul territorio. L'emergenza nei comuni della Valle del Calore e degli Alburni è mitigata dalla presenza di 300 donatori che però attualmente, pur volendo donare il sangue, non vengono messi nelle condizioni di farlo. Il paradosso nasce il 15 dicembre 2021 quando viene chiuso il centro trasfusionale dell'ospedale di Roccadaspide, centro, che veniva raggiunto dai volontari ogni settimana. L'ambulatorio più vicino ora si trova a Vallo della Lucania, a chilometri di distanza dai comuni dell'entroterra occidentano. La notizia ha scosso gli animi dei volontari, sui social si susseguono gli appelli dell'Associazione dei Donatori che per agevolare la raccolta di plasma si è ritrovata ad organizzare dei pullman che da paesi come Felitto, Piaggine, Laurino e Campora arrivano a Vallo della Lucania. Un'idea necessaria, eppure purtroppo non tutti i donatori riescono in questo modo a conciliare i tempi per la donazione, nettamente più lunghi rispetto a quando questa avveniva a Roccadaspide, con il lavoro e le altre esigenze. Ciò che amareggia di più è che dietro tutti questi disagi, a quanto pare, ci sarebbe solo una grave disorganizzazione sanitaria, e cioè il motivo che ha portato alla chiusura del centro trasfusionale. I locali in cui sorgeva l'ambulatorio sono stati sgomberati per permettere l'apertura dei cantieri per la realizzazione dell'ospedale di comunità, per cui i lavori sono in corso. Tuttavia il centro trasfusionale era stato trasferito in un'altra area del nosocomio rocchese. I locali, insomma, erano stati identificati. Le attività potevano riprendere immediatamente, in quanto l'area in questione, di circa 300 metri e quadrati, presso l'ex cucina dell'ospedale di Roccadaspide, sarebbe stata perfetta per accogliere sanitari e donatori. Ma c'è un problema. Quelle stanze andrebbero bonificate, visto che custodiscono le cartelle dell'archivio dell'ex USL58. Basterebbe dunque trovare un deposito garage, eppure da dicembre a marzo nessuno si è preoccupato di liberare l'ex archivio degli anni Ottanta. A nulla sono valse le tante stanze, più di cinque solo da settembre 2021 ad oggi, inviate a Giuseppina Arcaro, direttrice del distretto sanitario 69 Capaccio Roccadaspide, e a tutti i vertici sanitari di riferimento dal direttore sanitario dell'ospedale di Roccadaspide Michele Carratù, che ha chiesto di ripulire l'ex cucina dell'ospedale per lasciare spazio al centro raccolta sangue, data anche l'emergenza registrata. A nulla è balsa anche la disponibilità dell'ente comunale di Roccadaspide di impiegare dipendenti e mezzi comunali per lo smaltimento del materiale da buttare presente nei locali. Nella direttrice Arcaro, negli altri dirigenti, hanno dato mai alcuna risposta. I cittadini si stanno rivolgendo ai sindaci pur di trovare una soluzione per donare il sangue a Roccadaspide, ma mentre gli ospedali implorano sacche di sangue, dal distretto sanitario 69 tutto tace. La situazione del centro trasfusionale rappresenta una delle tante omissioni di dirigenti tenuti a organizzare la sanità per le aree interne, dichiara Girola Mauricchio, vice sindaco del comune di Roccadaspide. E mentre dal distretto sanitario 69 continuano a non rispondere, sono in tanti a chiedersi se in caso di emergenza qualche paziente dovesse riportare conseguenze gravi o addirittura morire a causa della mancanza di sangue, data anche la carenza segnalata dalle associazioni e gli appelli degli ospedali, chi ne risponderebbe? Si può rischiare così tanto a causa di un problema così piccolo che però, inispiegabilmente, non viene risolto? Domande a cui al momento, come per le istanze firmate da Carratù, nessuno offre risposta.